Siamo qui con mister Infantino al termine di Pomigliano Gela 1-1. Mister, partivate quasi come vittime sacrificali per i media, però alla fine siete riusciti a portare a casa un punto importante e soprattutto, credo, meritato per quanto visto in campo. Sì, sicuramente. Grazie dei complimenti, ma i complimenti vanno a questi ragazzi che hanno detto oggi noi vogliamo essere protagonisti con questa squadra. Sono i ragazzi di Gela e hanno lottato per i propri colori. Credo che questo sia un punto di partenza, come dicevo ai tuoi colleghi, sappiamo da dove stiamo partendo, ma sappiamo anche dove vogliamo arrivare e loro sicuramente saranno un punto da dove costruiremo la nostra squadra, perché meritano grande rispetto. hanno dimostrato che hanno le qualità per fare questo campionato. Avevamo 2-3-98, 1-99, 3-97. Credo che hanno fatto con grande personalità questa partita con un avversario difficile, in un campo difficile, perché materialmente non si può neanche gestire la palla. Io credo che hanno penalizzato tutte le squadre e alla lunga penalizzerà il Pomigliano. Volevamo una risposta, l'abbiamo avuta, siamo contenti. Continuiamo così con grande umiltà, con grande voglia di fare. Faccio i complimenti ai ragazzi di Gela e ai ragazzi di Gela che si sono fatti 12 ore di pulmoni, i nostri tifosi, e sono venuti qua e alla fine hanno onorato un ragazzo che è scomparso. Gli abbiamo onorato tutti assieme, perché noi vogliamo costruire una famiglia. La famiglia è il tifo, è il presidente, è il magazziniere, è l'allenatore, è il massaggiatore. Questo è il nostro contesto. Se vogliamo contribuire tutta la crescita di Gela dobbiamo dare tutta la propria disponibilità. L'hanno fatto, siamo contenti, ma c'è tantissimo ancora da lavorare, perché Gela deve essere protagonista. Direttore, il Gela veniva qui quasi come vittima sacrificale, ci aspettavamo una partita a senso unico, siamo stati tutti sorpresi da quanto messi in campo, soprattutto perché questo punto è strameritato. Se non fosse stato magari per quella zolla si poteva parlare addirittura di vittoria. Ma hai detto benissimo tu, eravamo morti, avevamo chiuso, avevamo detto addio alla Serie D, poi fortunatamente il nostro presidente insieme ad altre persone ci hanno consentito di proseguire in questo percorso. Ci siamo, siamo felicissimi e questa è la mentalità che dovremmo avere dall'inizio alla fine. una squadra umile, operaia, una squadra che onora la maglia, perché così obbligatoriamente dobbiamo fare. Avete visto il seguito dei tifosi gelesi che sono venute qui, noi abbiamo l'obbligo di onorare questa maglia. È chiaro che eravamo in gerottata, abbiamo fatto il primo allenamento venerdì, eravamo 15 con due infortunati, quasi non potevamo fare sostituzioni. Nonostante ciò devo dire sinceramente me ne sto andando con qualche rammarico perché al di là del gol sbagliato al novantesimo non abbiamo subito praticamente un tiro in porta se non uno su punizione. Sono veramente molto contento dei ragazzi per come hanno interpretato la gara, cuore, grinta e sacrificio.